Buonasera popolo di youtube, viro cilindrico da 50 mm, la chiave 4 pin con 4 bobine antimanipolazione sul lato inferiore più il pin di sicurezza sul lato superiore. Apriamolo con tensore dall'alto a becco corto per aumentare al massimo lo spazio a disposizione per le manovre e un grimaldello molto rigido per fare forza sui pin. Uno andato, due, tre, torniamo sull'uno, quattro, ok, dovrebbero starci tutti e quattro, vediamo se è solo quello sopra che manca, sì era solo lui, infatti si apre. E anche lui lo abbiamo manipolato. Bene, che dire, mi raccomando restate a casa pure voi. Un saluto dal brugola. Bene, che dire, mi raccomando.